L'idea sicuramente è stata accolta molto bene, infatti abbiamo raccolto circa 400 adesioni da diverse scuole da tutto il Trentino, anzi da quello orientale, occidentale e anche dalla città di Trento chiaramente. Per la prima volta vediamo appunto come la partecipazione e la volontà di cambiare effettivamente le cose concretamente si manifestano agli studenti. L'anno scorso mi ricordo che avevamo ricevuto 150 adesioni e quest'anno sono più del doppio. È chiaramente un dato che ci deve far pensare su quella che è la situazione e la volontà di cambiamento che contraddistingue la nostra generazione. Oggi saremo suddivisi in cinque parchi della città, Maso Ginocchio, Duca d'Aosta, Piazza Venezia, Piazza Dante e quello di San Marco. Ci saranno anche diverse classi all'interno di queste che avranno modo appunto di raccogliere quello che è i rifiuti che vediamo in giro, vedendo così una Trento diversa anche dal solito, non solamente l'immagine splendida che abbiamo.